Allora Boeri, è una cosa piuttosto tecnica naturalmente, quella della vigilanza bancaria, non è una di quelle cose di cui si parla nei bar, però se ne è parlato tantissimo grandi dissidi anche tra i vari paesi europei. Adesso abbiamo visto questo compromesso, cioè la BCE tra più o meno un anno e qualcosa, marzo 2014, metterà lei il naso, ficcherà il naso lei nei conti e nelle attività delle principali banche europee, sulle altre no, sulle altre solo se accenderà una spia. Ci vuole dire in estrema sintesi perché è così importante, visto che se ne è parlato tantissimo ed è stato estenuante questo percorso della vigilanza bancaria? È molto importante perché ci sono diverse ragioni per cui è importante avere una supervisione europea da una parte, ci sono degli effetti di contagio da un paese all'altro, per cui soprattutto queste grandi banche cosiddetto rischio sistemico possono in qualche modo nella loro crisi coinvolgere anche altri paesi e fare a un certo punto anche crollare l'intero sistema bancario, quindi c'è bisogno che ci sia un'attenzione che vada al di là del singolo paese, hanno spesso operazioni anche che vanno al di là del paese, sono in alcuni casi delle vere e proprie multinazionali, quindi non può un singolo paese vigilare su queste banche. Ma inoltre c'è anche il fatto che anche banche più piccole, quindi in questo senso l'accordo di ieri è un po' deludente perché bisognava estendere questa supervisione a tutte le banche nell'unione monetaria, possono, l'abbiamo visto, entrare in condizioni di difficoltà e trascinare in queste condizioni di difficoltà le interdipendenze ormai sono così forti che davvero è molto difficile tracciare un confine ed escludere alcune banche dalla vigilanza, certamente poi la vigilanza esercitata dalla BCE avrebbe dovuto riposare sul sostegno delle banche centrali dei singoli paesi, ma un conto è basarsi su poi una vigilanza delle singole, un altro conto è delegare interamente questa funzione alle banche centrali dei singoli paesi. Boeri, uno degli incubi, non solo degli economisti, ma un po' di tutti quando ci sono le crisi è la corsa allo sportello, cioè il fatto che quando le cose vanno male, soprattutto nella finanza e nelle banche, la gente corre a ritirare i soldi perché ha paura che quei soldi spariscano. Con questo accordo sarà più facile in futuro dare rassicurazione ai correntisti, ai risparmiatori normali? Perché se ci fosse poi un cappello europeo che garantisce i depositi sarà più difficile che ci siano qui o là corsa allo sportello perché si teme che lo Stato vada a gamballari e le banche con lui? Certamente è un passo in quella direzione, ma io direi che il tipo di corsa allo sportello che noi temiamo di più e che è avvenuto di più durante questa crisi è una corsa allo sportello tra le diverse banche, perché ricordiamoci che le banche si prestano dei soldi tra di loro e quello che è successo durante questa crisi è che le banche hanno cessato di prestarsi soldi. Quindi c'è stata, se vogliamo, una corsa allo sportello delle singole banche che non prestavano le altre banche e che ritiravano i propri depositi, quindi è proprio collassato il mercato interbancario e questo ha provocato davvero la crisi, non abbiamo per fortuna vissuto la corsa allo sportello della crisi del 29 invece.